Ed eccoci ragazzi, di nuovo ben trovati per questo quarto ed ultimo video, se non ci sono colpi di scena, lo faccio sempre a sta promessa, di questo 16 agosto del 2023. Oggi video un po' compressi ragazzi, vi chiedo poco puntuale, le fasce le sapete quali sono, ore 9, ore 12, ore 15, ore 18, però sto in ferie. Sto cercando di fare tutto il possibile ritagliandomi dei piccoli spazi per garantire le quattro produzioni giornaliere, però magari nella programmazione nell'ora, mi riferisco, posso sbagliare di qualche ora, vi chiedo scusa, ce la metto tutta per mantenere questo trend, non è facile ma ci provo, perché comunque sto pur sempre in ferie. Quindi fatta sta premessa, scusate se non sono puntualissimo oggi negli orari, comunque quarto contenuto della giornata, partiamo con la nostra intro. Ben trovati, ben trovati a tutti voi ragazzi, vi ricordo che in descrizione a questo video, così come a tutti gli altri, potete trovare quelle che sono le informazioni riguardanti il nostro canale. Allora, faccio video leggero, non a caso l'ho lasciato in chiusura di giornata, video leggero quello di oggi perché è una semplice riflessione mia personale e quant'altro, una riflessione che ho avuto modo di condividere nell'arco di questa giornata con degli amici, e anche una fantasia che viene fuori onestamente, perché magari sono il primo a crederci poco, però con la Lazio te mezzo, soprattutto con lo dito te mezzo, mai dire mai. E chiaramente io sono molto attento al mercato, è sempre stata una mia grande passione il calcio a mercato, e seguo principalmente quello che accade intorno alle dinamiche della Lazio, ma chiaramente seguo tutto, anche perché spesso, ed è proprio questo di cui voglio parlare oggi, ma vi ripeto è un mio discorso, una mia riflessione, non c'è niente di fondato, di certo, di provato in quello che sto per dire, anche perché oggi c'è stata una notizia un po' particolare che mi ha fatto accendere una spia nella testa, e allora, la situazione Samarzic, ve la vado dritto al dunque ragazzi miei, perché dico questo? Perché a parte intorno alla situazione Samarzic si è venuta anche una pagliacciata, col papà che ha cambiato le carte in tavola, lì ha fatto un passo indietro, roba de commissioni, poi il padre ha rosicato, ci ha messo in mezzo un altro agente, insomma saltato, chiuso, saltato definitivamente Samarzic all'Inter, Samarzic che già aveva fatto le visite, aveva fatto tutto, pronto a firmare e quant'altro, invece è tutto saltato. Attenti a questa situazione, perché adesso Samarzic è già tornato a Udine da due giorni, si allena ad Udine, ma l'udinese che è molto abile nel trattare i giovani e i suoi giocatori, non è stupida, capisce che ormai Samarzic rappresenta un potere di vendita, quindi di incasso, che rischi di bruciare perché nel calciatore, ragazzi, parliamoci chiaro, nella testa sua c'era l'Inter, nella testa sua c'era il trasferimento in altra squadra e un'altra stagione in quel di Udine potrebbe far svalorizzare paradossalmente il calciatore che magari non ci sta con la testa per affrontare una stagione con la maglia dell'udinese indosso, con tutto il rispetto che si vuole per la maglia dell'udinese. E' un discorso prettamente psicologico, ragazzi, lo stesso che ho fatto, per esempio, qualche settimana fa con Ciro Immobile, che voleva andarsene in Arabia, poi alla fine ha deciso di rimanere a Roma, come ci rimane a Roma? Cioè, non è che rimane con la distrazione della rabbia, non è concentrato pienamente inserito nell'ambiente della Lazio? Ecco, il ragionamento è lo stesso. E allora mi si è accesa una spia. Un ragionamento che faccio insieme a voi. E poi vi lascio ampio spazio per parlarne, per condividere i vostri pensieri, anche perché lo sapete, io finisce la live, mi metto a leggere voi. Perché sappiate che siete, non è sto faccione da scemo che sta al centro di questo progetto, ma ci siete voi. Non a caso lascio, nella maggior parte delle volte, alla fine del video, lascio uno, due, anche tre minuti per continuare a scambiare opinioni tra di voi. E allora, nella mia testa, da tifoso raziale sognatore, è scattata un'idea. Sì, è vero. Sarri ha rifiutato Samarzic. Non voleva Samarzic. Samarzic è saltato all'Inter. Trattativa definitivamente chiusa. Poi pure qui, come dicevo, le vie del mercato sono infinite, ok? Quindi capace che Samarzic stasera si riapra. Tanto per farvi capire. La Lazio sta cercando, è in trattativa per cedere in Grecia, Marcos Antonio, ve l'ho detto nel video di questa mattina. La Lazio sta cercando una sistemazione a Basic. E nella testa mia mi sono detto, Marcos Antonio, quanto guadagna di stipendio? Un paio di milioni. Basic, quanto guadagna di stipendio? Sta intorno alle 1,5-1,6. Stanno intorno ai 3,5 complessivi di stipendio. E se la Lazio riuscisse a far uscire questi due, piazzandoli fuori, e prendesse Samarzic? Nel monte ingaggi andresti a risparmiare, perché a Samarzic ce ne dai 2,5 e lo fai contento. Anche se è vero che adesso con l'Inter ha un accordo sui 3 milioni, 3 milioni e mezzo. Diciamo 3 milioni Samarzic. Ne spendevi 3,5. Oppure, vogliamo fare ragionamento ancora più estremo? Vi ho fatto la somma degli ingaggi prima. 3,6 tra tutti e due, tra Basic e Marcos Antonio. Diciamo, ipotizziamo che riusciamo a cedere in tempi brevi questi due giocatori. Ci liberiamo e abbiamo un potere di ingaggio di 3,6. Ribaltiamoli su Samarzic. Due che ne escono, uno che entra. Numericamente siamo in difficoltà? No, per niente proprio. Perché c'hai Cataldi, Rovella, Luis Alberto, Besino, Camada e Samarzic. Avresti un centrocampo di qualità, con sei giocatori per tre ruoli da titolare. Avresti un centrocampo di assoluta qualità. E nonostante, per due che escono, non è entrato solo uno, non è entrato anche un secondo. Quindi accorci paradossalmente la rosa. In realtà l'ha resa più lunga, l'ha resa più affidabile. Perché c'hai un giocatore di estrema qualità pronto a subentrare. Che ti può giocare in diversi ruoli della mediana della Lazio. Ecco, questa è la mia fantasia. Che, mentre registro sto video, sono le 17,05. Voglio lanciare a tutti voi. Con questo vi saluto, vi leggo, vi lascio tre minuti, quattro minuti di chat. Fatemi capire cosa ne pensate a questa cosa. La mia, innanzitutto, è un'utopia, secondo voi. Se è una fantasia estrema. Ma soprattutto, sogniamo un attimo. Perché il calciomercato è anche questo. Qualora accadesse, oppure qualora ci fossero i presupposti per realizzare questa trattativa, sarebbe una follia vera? Ciao ragazzi, appuntamento a domani. Un abbraccio forte. Un abbraccio forte. Un abbraccio forte. Un abbraccio forte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.